Buona giornata da Leonore. Oggi sto svolgendo un lavoro di eliminazione di una maledizione. Io devo dire che c'è una forza incredibile. Il fuoco sta pulendo delle negatività fortissime. Guardate che formazione si è creata, che verrà analizzata poi a fine del lavoro. Questa persona ha addosso una fattura cimiteriale fatta attraverso l'acqua del cimitero, sia lei che il suo partner. E in questo modo io sto staccando l'entità che ha addosso. Guardate che fumo nero. È una cosa veramente fortissima. Si sentono le energie fortissime che sono su questo lavoro. Vedremo dopo a fine lavoro la cera.